Ciao a tutti, eccomi di nuovo qua per un nuovo video in cui voglio sottolineare un qualche cosa in più rispetto a tutto quello che ho scritto del giudizio ma soprattutto del non giudizio. Voglio raccontarvi qualcosa di personale perché penso sempre che sia la cosa migliore parlare di se stessi. Quando ero ragazza, tanti anni fa, ho compreso che se io avevo i piedi caldi non stavo bene, per cui ho sempre cercato di raffreddarli o tenerli al fresco il più possibile. Questo implicava il fatto che io da tempo immemorabile non porto le calze neanche d'inverno. Uso il pantalone ma non uso le calze. Questo comportava il fatto che ancora a 44 anni mia madre mi sgridasse come se fosse una bambina di 10 per il fatto che io non indossavo le calze d'inverno. Io mi limitavo ad arrabbiarmi, è impossibile, mamma non capisci, se ho freddo me le metto, non sono mica più una bambina. E lei, no perché poi ti ammali non venire qui da me a dire che stai male, che ti sei presa l'influenza, per carità, mettiti le calze. E io puntualmente le calze non le mettevo. E quindi avevo dei grossi giudizi nei suoi confronti perché pensavo che lei non comprendesse assolutamente che io avevo 44 anni all'epoca e quindi fossi libera di scegliere se mettermi le calze o no. Quindi pensavo cose abbastanza antipatiche nei suoi confronti, senza capire che il suo era semplicemente un gesto d'amore nei miei confronti. Un giorno, evidentemente c'era già una fatina che lavorava dentro di me, mi sono sentita dire da dentro, ma senti Gabriella, ma tu hai mai detto a tua madre perché non porti le calze? No. Allora, la volta successiva che sono andata a trovare mia madre, e mia madre puntualmente ha trovato il modo di toccarmi le caviglie e verificare che io fossi per l'ennesima volta senza calze, ho detto senti mamma, ma sai che quando io metto le calze poi mi si scaldano i piedi e mi gonfiano e poi mi fanno male? E lei mi ha guardata con un'innocenza assoluta e mi ha detto, ah sì? Ah è per quello che non porti le calze? E io gli ho detto, sì mamma. Allora lei mi ha guardata e mi ha detto, ah ma allora fai bene. Ecco, un semplicissimo esempio di come io interpretavo il suo sgridarmi e come lei non riuscisse a comprendere i perché. Nel momento in cui noi mettiamo a fuoco il nostro perché, anche l'altro comprende i nostri perché. Quindi la comunicazione giusta, quella vera, quella che parte dalle emozioni che proviamo, della nostra verità, è sempre il miglior modo per sconfondere, per sconfondere, sì, per stroncare in partenza, mister giudizio. Riflettete su alcune cose magari che vi fanno arrabbiare, ma semplicemente perché voi non riuscite ad esprimere la vostra verità e quindi non riuscite ad andare oltre il vostro giudizio. È semplice, ma non è facile. Oppure è facile, ma non è semplice, però si può. Ciao, alla prossima!